ma salvi io sono giocatore no ma qui sì torino bay migra filo nipote di immigrati a torino torinese non ce n'è vero pochissimo forse sono le tizette no no io sono originario della basilicata dove andiamo? sono mio papà veneto andiamo qua seba dove è? andiamo a porto uniti e cazzuti da 35 cristiani sono anche caduto vaffanculo oh e prendimi sta roba cazzo deve cazzare la taglia qua non è sceso nessuno qua mi sa che si sono lanciati ma si sono spostati andiamo a pusciarci la taglia? andiamo andiamo va abbiamo un pallone un pallone e te napoli napoli o? si si sono di scampia ah ok dove cazzo è andata la taglia seba? è nel palazzo di fiano vai che muoio come un coglione da solo adesso ragazzi c'è la finestra per entrare io odio il castello vi giuro che lo odio ah sono entrati nel tunnel raga si anche secondo me l'entrata è lì seguiamole dai ti facciamo un abbraccio a prosino sono sotto qui sono sotto sotto dove seba? sotto qua si segna ancora eh ah li ho visti li ho visti a terra poi li ho visti qua 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 una mano raga non ci credo a pugni mi ha fatto in chi a seba arriva sempre un secondo dopo eeeh tu stai fin là? non sta volare davanti a te eh ma poi hai girato di scatto quello lì? mi hanno in culo detto ne abbiamo un altro ci sta anche dentro in testa sopra raga li avete visti? mi siete di sopra si vieni davvero perché sennò questi ci massacano aspetta ora raga raga è la taglia vado a scartato non c'è più muni eh ma ma non so dove sia eh penso a prenderli dentro ma più o meno vammelo a finire seba per favore confermamelo è giù è giù è giù obiettivo principale raggiunto per tagli eliminati ah mamma mia l'abbiamo fatto brutta questo già ci sono sopra la casa dove eravamo noi prima però ci facciamo l'odiceba scusami eh viene lo shop facciamo facciamo eeeh è sotto è rimasto senza armi ah no è qua qua tieni no dico senza le munizioni non è abbastanza Dario 30 e 30 prendi le muni Dario Dario prendi le muni minchia guarda dove c'è arrivato il lodi prendete anche una via ragazzi se mettete i soldi insieme veloci voi ci sono qua e prendiamo lì dopo dalla fune passiamo ditemi quando ci siete veci sono andiamo là andiamo 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 oh è piga sta corda c'è Kino c'è Kino c'è Kino alla montagna c'è Kino e recuperate le informazioni prima che vadano offline ecco il timo lì alla montagna eh non lo vedo Sebo ah non c'è il nero vieni verso di me vieni verso di me oh ok c'è Sebo eh all'odd out all'odd out stanno cazzo mi ha messo a terra questa ma è un po' e due dottore ok che erano le amichette occhiate sempre alle scale ragazzi eh ci sono io sulle scale ho arrivato tutte le piastre è fortissimo quel cecchino anche a me io non lo vedo più dove è è lì dietro è qui raga sì ma quel cecchino però o ce lo facciamo o ci fa lui eh perché sta scappando eh no raga una botta salgono eh una botta raga no raga vai restati Sebo è salito un altro uno resta o uno copre Dario copri vai 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 no occhio qua dai che vedi mangiate dai che vedi mangiate mi stavo placando Cristo guarda esatto no 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 se li ha fatti tutti se li ha fatti tutti retorniamo lì Sebo bella giocata Sebo bravo uno l'ho lasciato però non capisco più un cazzo adesso c'è sempre il cecchino che tira tra parte oh che è il bigy ram che cazzo non è così dove sono i miei coltellini ragazzi se vedete dei coltellini ditemelo ho perso i miei coltellini qua qua raga dobbiamo andarcene da qua però perché quel cecchino sta facendo neri neri c'è gente qua eh ragazzi che devono uscire non abbiamo più accesso alla rete nemica ce n'hai uno davanti uno davanti a voi prendete una vista riuscita al volo secchino di merda quello dietro non l'avete fatto c'è sempre un cecchino là sopra quello dietro ponete una via metti tutti insieme raga esce da gente là eh di nuovo si è passato passami soldi ok che lì è pieno eh a terra dove cazzo è là via 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 andiamo sotto il tunnel via smocco questi ma ci aspettano eh passiamo da destra con calma con calma con calma e poi li giriamo da sopra a sinistra sono allo shop vediamo che questi devono salire un attimino qua ragazzi fatto uno finché sto cecchino non è male dai devo solo imparare a usarlo un po il problema è che iniziare a usarlo impararlo a alternare mi sembra un po' stupida come cosa però no più basso più basso seba stai più basso seba my shot no cazzo no cazzo no ci sono arrivato ci arrivo ci arrivo un altro resto un altro resto mi serve ragazzi arrivo è che non ce l'ho neanche io la colpa eh la maschera passiamo da qua facciamo da qua facciamo il suo bordo safe cazzo nuova via adesso ci starebbe come il pane però no dobbiamo prendere sopra noi ragazzi sopra sopra attenzione c'è una stazione di acquittone a sopra ragazzi dove? pinga pinga vuoi passare da qui? no da parte abbiamo andato andiamo da quello dell'altro eh ce ne abbiamo solo due davanti eccoli livello se scendiamo siamo fregati ok 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 ma dai il cecchino è di merda mi ha preso quel cecchino mi ha preso eccolo 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 è dietro c'è il negozio lì eh ragazzi sono dovuto scappare come un pato sono dovuto scappare è fatto bene è fatto bene è fatto bene wait pingatemi un piotto guarda con la zanzara non agganciare lo shop ce l'hai a destra non ti hai visto non agganciare va ne facciamo solo solo c'è la sopra di te eh ti andai dalla finestra guarda girati si 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 eccolo c'è un altro questo è quello che stavamo a noi un altro un altro nooo cazzo 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 anche secondo me l'avevo preso madonna che panico fanno ancora uno vaffanculo sono in forma orco 2 orco 2 raga se entrava quel coltellino lì tanta roba e seba se entrava quel coltellino lì da applausi sì sì cosa ne pensi del nuovo cecchino il problema è che non è sciotta però però è velocissimo ecco ma poi scusami perché già vado all'imperium non all'mcpr come si chiama? il cattro il 300 no no il 300 allora ti spiego ci sono tre cecchini che sciottano l'imperium con gli esplosivi il 300 con gli esplosivi e il cattro con qualsiasi cosa al torneo stasera il cattro è vietato e gli esplosivi sono vietati aspettate un attimo ragazzi un attimo una kill di merda ma io ho bisogno di armi buone cazzo eccomi eccomi e ti dicevo non sono vietati quindi posso usare solo l'imperium e l'ho modato come in velocità